Ringrazio Davide Ammirata per il suo intervento che è anche molto costruttivo e spinge un pochettino tutti quanti verso il provare le cose, demoralizzarsi quando qualcosa non funziona. Adesso mi tocca in qualche modo autopresentarmi perché c'è la mia presentazione e quindi anche su questo prego la regia di incominciare a predisporla e io vi dicevo, tra l'altro vedo anche dei colleghi tra le fila appunto di questa platea e io insegno, vi dicevo, ad ingegneria elettronica e ad informatica di scienze e il mio corso è quello di cyber security. In questa presentazione che dovrebbe essere proiettata, c'è qualcuno alla regia? Ok. In questa presentazione andremo a discutere di alcuni aspetti che tratto pure nel mio corso, ma è chiaro che oggi ritratteremo in una maniera completamente diversa. Cercherò di passare un pochettino così, di volare alto sui dettagli tecnologici, sui dettagli matematici, però vorrei che coglieste un pochettino il senso delle cose che vi sto per dire. Innanzitutto sono convinto che la maggior parte di voi abbia sentito parlare di bitcoin. Chi ha sentito parlare di bitcoin, per favore alzi la mano. Ok, tutti, tutti. Quanti di voi hanno sentito parlare di blockchain? Già, è meno della metà. Quanti di voi conoscono le relazioni che ci sono tra la blockchain e il bitcoin? E si riduce ancora di più? E quanti di voi sanno quello che si può effettivamente fare sulla blockchain? Ok, perfetto. Mi sembra proprio che queste domande, non le avevo preparate in maniera anticipata, però sia le domande che l'ordine in cui sono state poste, mi sembra che effettivamente spieghi a voi stessi, oltre che a me, il fatto che su questo c'è abbastanza da poter dire, da poter imparare. Quindi in questo caso, mi scuso anche con voi per il fatto delle slide in inglese, ma la discussione sarà in italiano, quindi non credo sia un problema. Oggi parleremo della blockchain e delle relazioni, delle applicazioni che si possono fare in due ambiti ben specifici, però vedremo tra poco che gli ambiti di applicazione sono davvero tanti, quindi quelli sono proprio due esempi. Partiamo dalle motivazioni, perché parlare di blockchain oggi, poi vedremo quali sono tutte le possibili applicazioni in maniera molto veloce, poi un'introduzione tecnica, mi scuserete per alcuni aspetti o alcuni dettagli, solvoleremo, però alcune cose sono purtroppo necessarie, e poi andremo a vedere un passaggio tra le transazioni finanziarie, quindi le applicazioni blockchain al bitcoin, o applicazioni blockchain in altri contesti, per esempio quello delle transazioni energetiche, quello della videosorveglianza, quello dell'e-commerce. E allora, sulle motivazioni possiamo dire che oggi siamo qua in un contesto in cui si parla di free software, di software libero. La prima cosa che mi viene in mente di dirvi, riguardo a questo, è che nell'ambito della sicurezza c'è un principio che è ben codificato, tra l'altro legato a Kirchhoff, non confondetelo con Kirchhoff, e chi fa circuiti è un'altra persona, che qualcuno già immediatamente diceva, ma c'è un errore nel... che prevede che qualunque cosa si faccia da un punto di vista della sicurezza, in termini di cifratura, di meccanismi per irrobustire o per rendere l'informazione non modificabile, tutto quello che riguarda la logica con cui questo si fa, deve essere una logica conosciuta a tutti, anche all'attaccante. Se si pensa che la logica non sia conosciuta e che questo possa proteggerci dal fatto di essere attaccati, già si sta sbagliando. Quindi io devo dare pure all'attaccante la logica con cui faccio le cose. Quello che non gli devo dare poi chiaramente è qualcosa che l'attaccante non deve conoscere, poi la chiave in genere, la chiave di cifratura, la chiave... però questo principio mi dice che il codice che tratta elementi di sicurezza, se è open source, allora ha un vantaggio, perché aderisce a questo principio. L'attaccante lo può avere perché se ce l'ha disponibile è chiaro che lo conosce a mena dito. E questo significa che se voi andrete a vedere delle piattaforme blockchain, qualcuna di queste la tratteremo oggi, ma non andremo a fondo su questo, ma le potete trovare nel codice esorgente disponibili su GitHub, GitLab e varie piattaforme per lo sviluppo cooperativo. Poi ci sono altri aspetti per cui vale la pena parlare di blockchain adesso, il fatto che sia effettivamente un topic molto caldo, molto timely, molto attuale, e il fatto che non è possibile ormai non sapere di che cosa si tratta oggigiorno parlando di blockchain. Quindi io parto direttamente dalla fine in qualche modo, da applicazioni, e vi faccio notare, a me non piacciono le slide affollate, però l'ho fatta volontariamente per dirvi, queste sono le applicazioni che si possono fare con le blockchain e ciascuno di questi punti può essere espanso in maniera enorme. Quindi di fatto c'è chi dice, con le blockchain ci potete fare di tutto, oppure il caffè. Il problema, vedremo dopo, che non sempre vale la pena utilizzare una blockchain per fare queste cose, e in alcuni casi può addirittura essere controproducente. Allora perché utilizzarla? Perché conoscerla? Perché in alcuni casi proprio non se ne può fare a meno. In altri, dove se ne può fare a meno e dove si possono utilizzare sistemi più performanti, vale la pena utilizzare quelli, non la blockchain. Quindi vi voglio dire, da un lato c'è un interesse enorme su questo, dall'altro forse questo interesse, eppure causa una sovraesposizione delle informazioni sulla blockchain e ci invoglia a utilizzarla dovunque, anche laddove non dovrebbe essere fatto. Quindi da aspetti finanziari, qua in alto, nella parte dell'education, addirittura noi possiamo rilasciare i certificati con le blockchain. Ma non sappiamo ancora cos'è una blockchain, io vi parlo già delle applicazioni. Sì, perché immaginate quanti certificati, quanti titoli di studio falsi ci sono in questo momento in giro per il mondo. Hanno dimostrato tra l'altro che in Cina purtroppo ce ne sono ancora più che da altre parti, perché è più semplice fare delle contraffazioni anche su quello. Sistemi per votare. Votare tramite dispositivi completamente elettronici, non avere la necessità di andare a firmare un foglio, di firmare no perché appunto svelerebbe la nostra identità, ma di andare a utilizzare un foglio in maniera anonima, di raccogliere, di fare lo spoglio, eccetera. Nella compravendita, in questo caso di macchine, nel networking e nell'IoT, l'internet of things è qualcosa di cui avrete sentito sicuramente parlare, se non ricordo male c'era anche un talk l'anno scorso, quindi l'internet delle cose, l'internet dei sensori, dei dispositivi che sono distribuiti un pochettino ovunque, eccetera, eccetera, quindi non vado dappertutto, però mi voglio fermare su quelli che ho un pochettino sottolineato. Aspetti di notariato e di compravendita nell'ambito immobiliare. E questo è un contesto che con un tesista stiamo affrontando, credo che pure sia qui tra di voi, infatti. Aspetti legati alla compravendita di beni e servizi. Quindi, se io li compro con la blockchain, posso fare delle cose che in questo momento, nella compravendita anche su internet, con l'e-commerce online che conosciamo, non è possibile fare. La gestione dell'energia. La gestione dell'energia è qualcosa che tutti quanti conoscete, perché tutti quanti a casa pagate, o meglio i vostri genitori in alcuni casi, pagano le bollette della luce, ma molti di voi avete anche dei... dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto di casa, e quindi non siete soltanto consumatori, ma siete produttori. E la prima cosa che vi viene in mente, la più semplice, è quella di vendere l'energia che avete prodotto, non è possibile farlo in questo momento, anche da un punto di vista sia tecnico che legislativo, ad altri direttamente, se non attraverso il passaggio dal distributore, dall'ente distributore, nel nostro caso, è nella distribuzione. Supply chain management, questo mi consente di seguire un intero percorso di produzione, nel caso in particolare di un progetto che abbiamo scritto ad Unipa, e nel caso di specie dell'olio, del tracciamento dell'olio, dalla pianta, quindi dal campo, fino alla tavola, tracciare tutti i processi produttivi con cui viene prodotto, in questo caso un prodotto agricolo, ma anche un prodotto industriale, un prodotto anche di un workflow di alcune attività, cioè un prodotto informativo o informatico, anche quello può essere tracciato nella sua evoluzione, tracciato in una maniera indelebile. Quindi capite che ce ne sono tante applicazioni. Vediamo un pochettino però intanto di capire che cos'è una blockchain, partiamo dalla definizione. Quindi se consideriamo il fatto che come nome letteralmente è catena di blocchi, io ho messo qua una catena per farvi immediatamente visualizzare il fatto che se io ho una catena e provo a tirarla, ho sicuramente una caratteristica, il fatto che se la catena è spezzata, c'è un problema, eccetera, allora è immediato verificarlo. Io subito mi rendo conto che tirandola c'è qualcosa che non va, mi rimane... Se invece è solida, allora io la tiro però non si spezza, non si allunga. Quindi a che cosa è dovuta questa sua forza? Al legame che c'è in ciascuno di questi anelli. E chiaramente la sua debolezza è quella dell'anello più debole. Se io tra questi anelli ho questo che è più debole, tirandola si spezzerà quello. Quindi in questo caso nella blockchain che vedremo una catena di contenuti informativi, tutti gli anelli devono essere forti, ugualmente forti, per non poter creare questo tipo di problema. E a questi anelli andiamo ad agganciare, come se fossero, in questo momento è simbolico, tra un pochino ne vediamo un po' il dettaglio, andiamo ad agganciare dei contenuti informativi costituiti da blocchi. Quindi io le informazioni, che qua chiamo transazioni e tra un po' vedremo perché, però in questo momento immaginate che siano soltanto delle informazioni, non ha importanza che siano delle transazioni, le raggruppo, raggruppandole tra di loro creo dei blocchi, immaginate dei foglietti con dei cartellini che aggancio sulla catena. Quindi abbiamo due elementi di sicurezza, la catena che rappresenta anche da un punto di vista di evoluzione temporale il come ho preso queste informazioni e le ho messe, e quindi questo blocco so che è arrivato dopo di questo, quest'altro dopo di questo e così via. Come definizione adesso che incominciamo a capire qualche cosa, intanto la catena rappresenta una struttura dati, la blockchain è una struttura dati, quindi alla fine è come io strutturo i dati in modo tale che possano essere sicuri. Ed è una struttura che ha caratteristiche di verificabilità delle cose che ho messo dentro. Io dico che quella è autoritativa, quindi se io vado a leggere un'informazione che è sulla blockchain, sono ragionevolmente sicuro che quell'informazione è corretta. Ma ora ne parleremo parecchio di questo, perché non è immediato dire questo. E di transazioni, di informazioni, quindi tene conto di log di informazioni che sono state validate, quindi prima di entrare dentro la catena, prima di agganciare questo cartellino, qualcuno ha dovuto verificare che quella informazione è effettivamente vera, altrimenti io metto nella catena qualcosa che poi non corrisponde a verità. E quindi tutto questo, e questo è un punto diciamo chiave, viene fatto senza avere nessun intermediario fidato. Allora, cosa significa intermediario fidato? Facciamo un esempio proprio semplice semplice. Io ho 10 euro, li voglio trasferire a Marcello, e lo voglio fare elettronicamente, chiaramente. Come faccio? Li do alla mia banca dicendo guarda che voglio fare un bonifico, voglio fare una transazione finanziaria. La mia banca decrementa l'importo nel mio conto corrente e incrementa quello del suo. Quindi c'è un intermediario, la banca, fidato, perché entrambi ci fidiamo della banca, e se la banca a un certo punto scrivesse che quei 10 euro, anziché essere 10, fossero 100, io non avrei nessun modo per dire no, non è vero. Ormai è fatto, diciamo. Lui sarebbe contento, chiaramente, però, diciamo, questo vi fa capire che a un certo punto entrambi dobbiamo fidarci, perché se poi la banca il giorno dopo fa il contrario, diciamo, sarei contento io, ma evidentemente... Esatto. Ora, quindi, qual è in questo momento una delle caratteristiche di questa catena? La robustezza nella catena, l'abbiamo simboleggiata appunto in questa catena bella grossa, ma sta a indicare il fatto che una volta messi i dati lì sopra, non si possono più cambiare. Non si possono più cambiare. Ed è un meccanismo append only, cioè io posso aggiungere altri dati, ma non posso andare a sganciare un cartellino da qua. Quindi, né l'ordine dei dati, né la informazione stessa che è scritta può essere modificata successivamente. Credo che qua... sì. Ora, vediamo un pochettino quel discorso delle transazioni. E non vi voglio fare latino, attenzione qua, però, giusto un minimo, la transazione è qualche cosa che riguarda la negoziazione. La stessa transazione finanziaria di cui vi ho parlato adesso, io gli do 10 euro, è una negoziazione perché probabilmente lui mi dovrà dare qualche cos'altro. Cioè io tra Alice e Bob, i due soliti interlocutori nell'ambito della sicurezza, e quindi molto spesso A e B poi diventano per semplicità, e lei in questo caso Alice dà energia, Bob dà i soldi. Quindi la transazione è una negoziazione tra aspetti economici, finanziari, di scambio anche di beni, eccetera. La transizione che cos'è invece? È un passaggio. Un passaggio da uno stato ad un altro. Immaginatevi quest'aula, prima che arrivate voi, erano in uno stato di essere vuota, siete entrati voi, adesso è quasi piena. Quindi è cambiato lo stato di quest'aula. Qua vediamo il cambiamento dello stato legato ad una transazione. Quindi la transazione che ha spostato l'energia da Alice a Bob e che ha causato lo spostamento dei soldi da Bob a Alice, di fatto è un passaggio in cui prima c'era questo stato, Alice aveva l'energia e Bob aveva i soldi. Poi c'era quest'altro stato, Alice i soldi e Bob l'energia. Quindi qualunque cosa, io ve l'ho fatto con l'energia, ve l'ho spiegato con gli aspetti finanziari, ma qualunque cosa voi trasferiate, quindi qualunque cosa abbia un valore, quello può essere oggetto di una transazione, anche una semplice informazione. Ora qua un attimino, diciamo, dobbiamo parlare di una cosina che ci serve però per capire dopo alcuni aspetti tecnici. Cercherò di essere semplice. Parliamo di funzioni di hash. Le funzioni di hash, dovete, sono delle funzioni, le avete un pochettino studiate tutte in matematica, però qua le vediamo da un punto di vista un pochettino più di alto livello, come dei tritacarne. Io ci metto della carne dentro e ho il tritato. Semplice. Quali sono le caratteristiche però di questo tritacarne? Che metto qualche cosa di lunghezza arbitraria, ci metto una mucca, ho un'intero, diciamo, un'intera mandria, e mi esce sempre un'informazione della stessa lunghezza. Quindi avrò un chilo di spezzatino fuori come risultato. E la lunghezza di questo hash e l'hash stesso sono in genere 128, 256, 512, quindi un certo numero di bit è rappresentati in formato esadecimale. Quindi, queste le funzioni di hash per adesso da un punto di vista molto di alto livello. Quali sono però le caratteristiche che devono avere? Questa si chiama pre-image resistance che significa che se io ho il tritato non posso risalire alla mucca. Di fatto, dato l'informazione e dato poi l'hash, io non posso ricavare l'informazione indietro, quindi dall'hash non posso ricavare l'informazione originaria. Ma questo è un pochettino chiaro perché se voi avete un chilo di tritato risalirà la mucca. Diciamo, non mi sembra sia semplice. Secondo, pre-image resistance, cioè se io ho due informazioni differenti e di cui una appunto non è nota, dato che voglio proprio ottenere due hash uguali, io non riesco a trovare, mettiamo così, questa è la mia prima mucca, faccio il tritato e ottengo questo. voglio ottenere un altro chilo di tritato identico, come faccio a trovare una mucca che mi dà di nuovo lo stesso tritato? Non è possibile. Quindi questa informazione, X2, non la posso trovare. Da questo posso ottenere l'informazione, ma da qua non posso trovarne un'altra che abbia le stesse caratteristiche in uscita. La terza è anche ancora più importante. Questa viene chiamata collision resistance, la resistenza alle collisioni. io non posso trovare due contenuti informativi che abbiano lo stesso, la stessa uscita. E l'intero, questo gruppo di proprietà, adesso le andremo a utilizzare per capire come funziona appunto la blockchain. Un esempio di cosa si può fare con queste funzioni di hash è l'hash cash. Quindi è come se fosse denaro contante, però fatto con queste hash. E allora, l'hash cash è una prova di aver fatto del lavoro. Se io devo dimostrarvi di aver fatto un determinato lavoro, come posso fare? Mettiamo che io voglia dimostrarvi di aver, non lo so, arato un terreno. Vi posso dimostrare di averlo fatto portandovi direttamente sul posto e facendovi vedere quello che ho fatto. In questo caso, da un punto di vista matematico, è paragonabile a un cubo di Rubik. Un cubo di Rubik è molto difficile da sistemare. Molto difficile. Poi per carità sono pure le tecniche, qualcuno di voi lo saprà fare velocissimamente. Ma verificare che il cubo di Rubik sia stato sistemato è facile. Lo vedete subito se tutti i colori delle facce sono omogenee, allora è immediato. E questo lavoro che andiamo a fare con l'hash cash è una cosa del genere. Cioè, io ho delle operazioni molto difficili da fare, ma una volta fatte, la verifica del risultato che sia corretto è immediata. Vediamo un pochettino di capire. Allora, io ho questa funzione di hash. Ci metto dentro una informazione che è nota, è fissata, quindi immaginiamo che questa sia l'informazione che voglio mettere nel cartellino della catena che vi ho mostrato nella slide precedente. Io ci vado ad aggiungere un valore numerico che chiamo nonce perché lo devo utilizzare una volta sola e che va crescendo, potrebbe anche essere un semplice contatore e quindi che cosa succede? Che cambiando questo nonce cambiando questo concatenato con l'informazione mia, è chiaro che cambia quello che io vado a mettere qua, quindi cambia questo l'informazione che io vado a mettere in ingresso e quindi mi cambierà l'uscita, anche semplicemente cambiando il numerino. Quindi vado a provare questa cosa tante volte, cambiando, prima ci metto uno, poi ci metto due, poi ci metto tre, eccetera, ma fino a quando dovrò provarlo? Fino a quando non avrò in uscita una, l'output della funzione di hash non sarà costituito da un numero di zeri all'inizio pari a quello che avevo desiderato. Quindi è come andare alla cieca cercando un ago in un pagliaio. Io creo il primo contenuto informativo aggiungendo uno, faccio il calcolo e non mi viene con gli zeri, come in questo caso, quindi riprovo, aggiungo due e faccio, aggiungo tre e faccio, eccetera, eccetera. Una volta che io ho finito, ho trovato tutti questi zeri, ma ci vuole un grande numero di prove per poterle trovare, si potrebbero pure quantificare, ma sono veramente tante e dipende da qual è la lunghezza di questa parte che voglio zero, una volta che io l'ho trovato, per me è facilissimo verificarlo e farlo verificare agli altri. Come? Io ho fatto milioni di calcoli di un hash function, ma per chi deve verificare, deve verificarlo una volta sola, prende il contenuto, io gli do il numerino che era giusto, era il 1324, lui prende il contenuto, ci mette 1324, dopo lo fa passare attraverso il tritacarne e ottiene questa uscita e per quanto dicevamo poco fa non è possibile trovare un'uscita differente rispetto a questa, perché è univoca una volta che noi abbiamo determinato qual era l'ingresso e quindi per me con un'unica passata è facile verificare questo concetto. Quindi, che cosa succede in questo caso? l'hash cash mi consente di definire chi è il vincitore di un puzzle, di un problema, in questo caso è un problema matematico per certi aspetti da risolvere, tra tanti di voi. Come lo posso utilizzare l'hash cash? Lo posso utilizzare in tanti modi. Se io volessi decidere tra di voi a caso qualcuno che deve parlare e che mi deve fare una domanda, come potrei fare? Potrei prendere io estrarre un numerino e dire è il numero 1423 che deve parlare, 1423 eravate stati tutti numerati e lui parla a lui. Ma a questo punto notate che io faccio questa operazione, io che sono un'autorità diciamo così fidata, io faccio l'estrazione, ma se siete tra di voi e dovete fare questa estrazione tra di voi, chi è che sa che è un'autorità fidata se ciascuno di voi non si fida dell'altro? perché nella blockchain c'è una questione di fiducia dietro e del fatto che se vogliamo gestire queste cose in maniera completamente decentralizzata dobbiamo supporre che nessuno si fidi dell'altro. Quindi come facciamo? Ciascuno da un contenuto informativo noto può provare a mettere vari numeri, il primo che trova questa caratteristica che sarà difficile a trovare ha vinto e il primo che ha risolto questo problema alza la mano e dice io l'ho risolto come faccio ad essere sicuro che l'ha risolto? Verifico in maniera immediata ok hai risolto il problema adesso parla tu quindi questo è il meccanismo su cui grosso modo funziona vado un pochino velocemente ora che abbiamo capito cos'è una funzione di hash e come poterla utilizzare vediamo come concatenare quei blocchi di dati uno di seguito all'altro utilizzando la funzione di hash quindi immaginiamo per adesso che questo blocco è un blocco già esistente questi altri in questo momento no c'era un'animazione nelle slide ma vi dicevo non è stato possibile poi utilizzarla cosa succede perché io posso applicare un altro blocco? vi dicevo poco fa che io vado a mettere questi elementi informativi soltanto in coda alla catena non posso aprire e metterlo in mezzo solo alla fine tra l'altro questo vi sarà chiaro adesso perché non lo posso fare scusate perché non lo posso fare a metà proprio perché ci sono queste funzioni di hash che proteggono la concatenazione questa il rosso diciamo così questo collegamento il rosso non è altro che la funzione di hash calcolata sull'intero blocco quindi io questa informazione ci calcolo la funzione di hash e lo metto nel successivo di tutto questo calcolo la funzione di hash e lo metto qua dentro e così via quindi c'è una concatenazione tra funzioni di hash per le proprietà delle funzioni di hash e per questa concatenazione sequenziale chiunque voglia a un certo punto modificare questo blocco non solo deve modificare questo blocco ma deve modificare tutti i blocchi successivi perché altrimenti la concatenazione non funzionerà più perché se modifico qualunque anche un solo bit di questo blocco mi modificherà completamente questo e siccome questo poi è utilizzato per calcolare successivo eccetera eccetera e appena si modifica cosa succede di bello che subito ce ne accorgiamo la funzione di hash successiva non inizierà più con tutti quegli zeri quindi il fatto che un'informazione sia stata modificata è immediatamente visibile ed è immediatamente verificabile quindi due aspetti visibilità e verificabilità quindi in questo caso utilizziamo una struttura di hash pointer ma questa struttura noi parliamo di blockchain come una cosa completamente innovativa era nota da un punto di vista della crittografia già dagli anni settanta quindi questo è un elemento noto dagli anni settanta ma la novità della blockchain non sta nella struttura dati creata in questa maniera ma nelle applicazioni nella modalità con cui questi dati possono essere utilizzati e in un altro aspetto che andremo a vedere tra poco che è quello della diffusione di questa informazione non soltanto come presenza in un unico nodo della rete ma contemporaneamente su tutti i nodi della rete quindi immaginate tutti voi avete a disposizione tutti i dati dell'informazione della catena e se qualcuno di voi li modifica immediatamente è noto a tutti gli altri e dice no lui sta barando non ci interessa l'informazione che ci dai tu non va bene quindi è una maniera per rendere questa cosa completamente distribuita andiamo un pochettino avanti e vediamo che c'è un altro piccolo dettaglio tecnico qua perché in realtà la maniera con cui vi ricordate poco fa che avevo fatto vedere un appendino un gancetto con cui prendevo l'informazione e l'agganciavo alla catena ecco questi rossi sarebbero i collegamenti tra i nodi della catena tra gli anelli della catena questi in blu sono proprio una rappresentazione veritiera di quello che era il gancetto cioè di come io prendo l'informazione che è data da transazioni quindi questa è la transazione zero io do 10 euro a lui questa è la transazione uno quei 10 euro sono passati a lui e così via di come questa informazione poi debba entrare all'interno del blocco cosa viene fatto di questo elemento viene calcolato l'esce di quest'altro elemento viene calcolato l'esce poi calcolo l'esce della concatenazione tra questi due esce quindi sono esce di esce e così via fino ad arrivare a quella che si chiama root esce la radice di un albero quindi appena arrivo qua so guardando qua dentro immediatamente quali sono le transazioni che erano presenti e appena io modifico qualcosa qua questo mi va a cambiare ma se questo mi cambia al solito cambia l'esce del successivo ed è il discorso che facevamo poco fa quindi ci sono due strutture dati diciamo tra di loro legate caratteristiche della blockchain quindi adesso risolleviamoci un pochettino e vediamo aspetti più semplici intanto è distribuito scusatemi è distribuito quindi mentre questo rappresenta una struttura centralizzata in cui le varie persone che vogliono scambiare soldi nel caso del bitcoin devono passare tutti per la banca o per un sistema di banche in un sistema distribuito tutti i nodi possono comunicare tra di loro in forma peer to peer tant'è che questo tipo di diciamo così tecnologia si basa anche sulle reti peer to peer sfrutta delle tecnologie delle reti peer to peer ma non entriamo a fondo su questo quindi distribuita non c'è nessun elemento centralizzato è immutabile cioè non posso cancellare un elemento se io voglio modificare qualche cosa la modifico dicendo avete presente il blocco che c'era qua e che vi diceva una determinata cosa devo aggiungere un blocco dopo dicendo guarda questa cosa è cambiata quindi qua per esempio trasferisco la proprietà di un immobile a Tizio qua dico e quell'immobile è stato trasferito a Caio ma che era stato trasferito a Tizio non lo posso cancellare devo soltanto aggiungerlo e quindi tiene conto anche di una storia qua sul discorso dell'aspetto della Bizantini non vi sto diciamo così ad annoiare però deriva grossomodo dal fatto che i generali bizantini non si fidavano neppure l'uno dell'altro non c'era un solo generale ma erano tanti generali e non fidandosi l'uno dell'altro dovevano tenere conto della comunicazione che c'era tra di loro in modo tale da poter tutti attaccare o desistere diciamo in maniera logicamente coerente quindi dicevamo la blockchain ha queste caratteristiche quindi è sicura anche da un punto di vista bizantino cioè se c'è un nodo che si comporta male perché appositamente vuole comportarsi male uno dei generali bizantini comunque la blockchain continua a funzionare continua a funzionare bene e continua a funzionare bene fino a quando non c'è la maggioranza dei nodi che decide di comportarsi male e probabilmente qualcuno di voi nel bitcoin ha sentito parlare di 50 più 1 o del attacco a 51% cioè quando la maggioranza diventa malevola è chiaro che se la maggioranza di noi che teniamo questa blockchain decide che la blockchain non è più questa ma il contenuto informativo è diverso cancelliamo mettiamo quella e ci mettiamo tutti d'accordo che sia quella ma perché stiamo colludendo nei confronti di un attacco verso la blockchain quindi è crittograficamente sicura perché ci sono degli aspetti crittografici che vanno oltre quello che vi ho detto c'è la firma magari qualche cosa la vedremo magari anche forse no però è crittograficamente sicura e funziona bene in ambienti in cui non c'è fiducia perché mentre nella banca qua tutti si fidano di questo pallino rosso qua nessuno si fida di nessun altro sugli smart contract non vado oltre una cosa invece che mi preme sottolinearvi è che la blockchain ha in qualche modo 10 minuti perfetto ha in qualche modo delle necessità di tracciabilità trasparenza e fiducia o meglio scusatemi la blockchain garantisce questi tre elementi quindi tracciabilità perché? perché una volta che ho messo l'informazione non la posso più modificare mi dà uno storico di quello che è successo è tracciabile io lo vedo che cosa è successo trasparenza perché in molti casi può essere resa questa informazione visibile a tutti e quindi tutti hanno la possibilità di cogliere i benefici e fiducia proprio perché il modello di fiducia su cui si basa è completamente diverso rispetto a quello che appunto a quello a cui siamo abituati e qua vado molto veloce queste rappresentano degli elementi dei blocchi all'interno della catena cosa succede se visto che è un'informazione che va condivisa tra vari nodi se qualcuno è arrivato qua questa è la catena fino a un certo istante e qualcuno sia un nodo e un altro nodo contemporaneamente cercano di inanellare due blocchi al termine della catena ma due blocchi che hanno contenuto informativo differente cioè come dire vi dicevo poco fa del chi è che ha soluzione alza la mano e immaginate che due di voi trovano la soluzione contemporaneamente alzano la mano contemporaneamente e possono parlare in questo caso cambio microfono sì cambio microfono sembra che no no era spento e vi dicevo due sollevano la mano contemporaneamente perché hanno risolto effettivamente il problema contemporaneamente e provano a scrivere sulla catena aggiungendo due blocchi diversi a questo punto siccome questa informazione si propaga tra tutti i nodi della catena è fatta c'è la regola per cui la catena che poi va crescendo più velocemente quella che ha più blocchi prevale sull'altra e quindi questa parte viene eliminata questa viene cancellata questa sì viene cancellata ma perché non fa parte più della catena quindi la catena poi diventerà questa perché quella più lunga perché avete capito che qua c'è più lavoro dietro da fare in termini di ricerca di quegli hash che abbiano i bit zero eccetera tra l'altro una cosa che non vi ho detto però ora subito magari ve lo dico adesso per risvegliare un pochino dopo un po' di discussioni tecniche è che quel lavoro così pesante che facevamo con le funzioni di hash è proprio quello che fanno i computer quando fanno il mining quando nell'ambito del bitcoin tutti quanti avete sentito parlare di mining ma che cos'è è la possibilità di creare un blocco cioè quel lavoro pesante serve proprio per avere la possibilità di dire ok io ho risolto il problema ho alzato la mano posso scrivere questo blocco qua poi qualcun altro troverà una soluzione aggiungerà quello successivo e così via quindi si va a concatenare e la concatenazione chiaramente più blocchi ci sono più sarà sicuro il mio blocco più blocchi ci sono dietro al mio più il mio è invulnerabile agli attacchi perché chi dovesse volerlo attaccare dovrebbe attaccare sia questo che tutti i successivi e questa è una slide che ogni tanto mi piace ma proprio perché anche ci si rilassa un pochino nell'ambito del diciamo così difficoltà di compiere quel lavoro e di dire alzo la mano perché ho risolto il problema possiamo vederlo questo discorso del del mining che nell'ambito blockchain viene chiamata anche proof of work cioè prova di aver fatto del lavoro io provo agli altri di aver fatto del lavoro matematico le soluzioni delle funzioni di hash perché una volta che vi ho dato la soluzione per voi è facile verificarla in questo caso somiglia molto alla storia degli orazzi e dei curiazzi ho poco tempo a disposizione quindi cercherò di essere breve era un soldato romano contro tre soldati non ricordo se cartaginesi o comunque di un altro esercito è chiaro che questo da solo avrebbe avuto sicuramente la peggio la storia è un antecedente ma chiaramente non ci andiamo avrebbe avuto la peggio cosa ha fatto essendo una persona intelligente e veloce nel correre si è messo a correre si sono messi a correre pure gli altri è chiaro che la capacità e la velocità di questi tre era differente tra di loro quindi il più veloce sarebbe arrivato prima il secondo sarebbe arrivato un po' dopo eccetera eccetera c'era una distanza di tempo tra questi quindi arrivando in tempi differenti lui ha avuto modo di poter combattere con loro tre ma ad uno ad uno in sequenza non insieme questo chiaramente gli ha consentito di vincere cosa significa questa cosa dal punto di vista della sequenza significa che lui ha fatto del lavoro la sua corsa e che ha avuto grazie a questo lavoro la possibilità di distinguere qual è la velocità di arrivo tra determinate persone che avevano un obiettivo comune in quel caso quello di ammazzarlo ma nel nostro caso l'obiettivo comune di tutti questi nodi è quello di voler scrivere qualche cosa nella catena quindi come faccio io a decidere chi è il prossimo a scrivere chi è il più vero a risolvere un problema e questa difficoltà chiaramente è pure regolabile nel caso della blockchain ma è regolabile anche nel caso della corsa perché se io faccio da qui a lì sotto sfido tutti voi a correre insieme a me e a trovare grosse differenze da qui a lì sotto arriveremo più o meno tutti assieme ma se corriamo da qua a piazza indipendenza probabilmente tutti ci allargheremo in questo ventaglio di tempi di arrivo e quindi ci sarà una differenza più marcata quindi questa qua è la mining procedure eccetera eccetera e quando voi sentite parlare anche del fatto che fare mining è una cosa onerosa da un punto di vista energetico perché sono dei computer che fanno dei calcoli calcoli di funzioni di hash in continuazione e questo vi dicevo può essere regolato questa difficoltà e quindi non ci sto molto a discutere ma vi voglio dire che esistono anche delle maniere completamente diverse di procedere quindi intanto questo algoritmo è un algoritmo che mi consente di eseguire quello che viene detto protocollo del consenso cioè come diversi nodi si mettono d'accordo nel decidere qual è l'informazione da aggiungere nel modo in cui dicevo io faccio del lavoro provo di averlo fatto provo nel senso no faccio un tentativo provo nel senso che do la dimostrazione di averlo fatto e a questo punto sono io che ho vinto e vado a mettere nel caso del bitcoin chi vince è chi mette il successivo blocco e si prende una ricompensa si prende dei bitcoin per avere fatto quell'operazione quindi il lavoro fatto è comunque ricompensato altrimenti non lo farebbe nessuno nessuno lavora per niente vado anche qua un pochettino veloce mi dicevano che c'è poco tempo allora ci sono altri modi veloci e leggeri quindi che non richiedono questo contenuto questa elaborazione questa capacità di elaborazione così onerosa e quindi la proof of work è quella che vi dicevo poco fa e la tagliamo perché questa è onerosa e teniamo conto di altri tipi di prove posso dimostrare agli altri che ho che ne so delle risorse possono essere risorse di memoria risorse economiche risorse ma se io ho più risorse di lui allora ho più probabilità di lui di trovare la soluzione a quel problema e quindi poter scrivere sulla blockchain e così via quindi questa è come una viene rappresentata come una lotteria e chi vince può scrivere sulla blockchain ma a questo punto in questa lotteria il monte premi è costituito dal fatto che ciascuno mette a disposizione degli altri una certa quantità che poi non può più prelevare tutto questo attenzione viene fatto con delle funzioni crittografiche di crittografia non è una cosa che viene raccogliamo i biglietti facciamo è tutto in automatico è tutto fatto con delle funzioni che dicevamo poco fa come si distinguono le blockchain in base al tipo di permessi di scrittura quello che dicevo poco fa è tutti voi potete alzarvi e dire io voglio fare la domanda però per poter fare effettivamente la domanda dovete dimostrare che avete fatto lavoro ma io lo dico a tutti voi in maniera indistinta e così funziona nelle blockchain permissionless cioè senza permesse bitcoin usa una blockchain permissionless perché chiunque di voi può andare su bitcoin fare mining può scrivere delle transazioni sulla blockchain e così via ci sono invece delle blockchain che sono permissionless cioè anche qua fa avanti e indietro cioè soltanto alcuni di voi possono scrivere immaginate per esempio che tutti quelli che sono in quest'aula in quest'aula in quest'ala sinistra dell'aula dell'anfiteatro siano stati registrati siano stati appunto con le credenziali create delle credenziali siano stati identificati tutti loro hanno la capacità di scrivere sulla blockchain gli altri no per esempio allora in questo caso parliamo di blockchain permissioned perché è necessario fare questo perché nelle blockchain in cui ciascuno può scrivere ciascuno non solo può scrivere per conto proprio ma può impersonare anche altri e questa è una cosa che si chiama Sybil Attack perché ciascuno di voi può creare una propria identità in maniera molto semplice quindi anziché crearne una ne crea dieci e fa finta di essere dieci persone se invece venite identificati prima di poter scrivere nella blockchain rientriamo in questa classe nelle classi delle blockchain le classi delle blockchain private dal mio punto di vista non hanno grande importanza qualcuno parla di blockchain completamente private ma se è privato non vale la pena utilizzarla la blockchain vale la pena utilizzare direttamente un database perché non c'è un problema di fiducia mancante tra gli altri cioè io non uso una blockchain se serve solo a me sono un nodo sono io mi fido di me stesso a che mi serve mettere i dati con tutte queste concatenazioni eccetera le devo mettere soltanto quando c'è una gara tra di noi a chi scrivere quando c'è qualcuno che vuole modificare i dati di qualcun altro e così via altrimenti non ha senso vabbè su questi elementi diciamo così tratterei perfetto passerei avanti io appunto non non avendo io la possibilità di gestire il tempo perché sono da questa parte semplicemente vado su aspetti proprio a saltare aspetti finanziari immaginatevi nel campo del bitcoin che io non cambio non trasferisco la moneta come se fosse un file che dico ok questo è un file digitale sul mio computer eccetera che rappresenta 5 euro e quindi lo do a lui perché? perché praticamente a me verrebbe semplicissimo fare una copia di questo file e poterlo dare anche a lui e quindi gli ho dato altri 5 euro e a questo punto copia e ne faccio quante ne voglio e le distribuisco a tutti voi ho creato dei soldi e non è possibile chiaramente fare questo dove si va ad agire invece? si va ad agire sulla transazione cioè sul fatto che io trasferisco è il trasferimento che io immagazzino come informazione non la moneta di per sé quindi i soldi che io avrò nel mio portafogli sono dati dalla somma di tutti i soldi che mi sono stati dati e la differenza di tutti i soldi che io ho dato quindi questo calcolo fa sì che si sappia quanto io ho quindi questo è un ambito finanziario c'erano molti dettagli ma chiaramente li supero in ambito energetico che cosa possiamo fare? in ambito energetico possiamo tenere conto di vari elementi energia attiva reattiva perdita cosa significa? significa che quando io prendo dell'energia e la trasferisco nei confronti ad un altro mio vicino di casa io gli sto dicendo guarda che ti ho dato tot chilowattora di energia attiva lo scriviamo sulla blockchain da quel momento in poi lui sa che è in debito con me di quella quantità ci sono altri dettagli su questo nel senso le perdite quando io faccio metto energie in rete succedono delle cose un pochettino particolari cioè se io ho due persone che stanno trasferendo energia contemporaneamente le perdite non sono la somma delle perdite che sono degli effetti che vengono chiamati non lineari eccetera però questo significa che le transazioni non possono essere io faccio una transazione a lui lui ne fa un'altra all'altro collega e noi sommiamo questi elementi come se fossero elementi tra di loro facilmente sommabili salto su un altro aspetto e poi vado per per concludere esatto ti devi viare alle conclusioni il tempo sì sì infatti aspetto legato alla videosorveglianza la videosorveglianza mi consente in questo caso di fino alle 11.20 sì quindi proprio adesso devo andare a chiudere la videosorveglianza per esempio mi consente di determinare anche scusate anche quale in questo caso per esempio dei portoni immaginatevi di avere dei portoni io sono il proprietario della camera che sta riprendendo questa scena se io sto guardando qualcosa che sono abilitato sono autorizzato a guardare va bene ma se io sto guardando qualcosa che non sono autorizzato a guardare allora non va completamente il bene un giudice mi può anche diciamo così dare una una pena una sanzione una pena per questo e se io invece dimostro agli altri senza dare chiaramente il video che sto registrando perché se io per dimostrare a lui che non lo sto riprendendo gli devo dare il mio video è chiaro che per non ledere la sua privacy le do la mia perché gli sto dando la mia informazione ma se io riesco a farlo con una block chain a dimostrare che la configurazione di quella camera non è lesiva per la sua privacy io a quel punto ho anche delle ricadute in termini appunto di privacy preserving e un'ultima un'ultima cosa vado un pochettino a saltare infatti siamo alla slide prima delle conclusioni questa stessa cosa la posso applicare anche a delle fiere elettroniche la block chain come elemento per raggruppare richieste vi faccio un esempio molto veloce dieci di voi vogliono comprare un un iphone un telefono e questi dieci però tra di voi non vi conoscete tutti volete lo stesso modello se voi dieci riusciste a fare un ordine unico potreste risparmiare un sacco di soldi ma non vi conoscete non sapete che avete questa necessità non potete farlo non potete aggregarvi ci sono groupon ci sono sistemi ma al solito voi vi dovete fidare della piattaforma voi vi state fidando di qualcuno che fa l'aggregazione per voi in una block chain il vostro interesse e il vostro desiderio di acquistare può essere in qualche modo anche regolamentato è scritto sulla block chain e da quel momento in poi vi siete presi un impegno forte tra l'altro ciascuna di queste operazioni viene firmata digitalmente quindi non potete dire ah non sono stato io che volevo quindi si iscrive sulla block chain automaticamente la block chain capisce perché poi ci sono delle operazioni che la block chain può fare in automatico capisce qual è l'aggregazione e quante persone sono arrivate in un certo tempo e dice ok da questo momento in poi possiamo procedere con la spedizione e ciascuno scusami e ciascuno la spedizione è al punto in cui ciascuno ha indicato di voler ricevere quel particolare oggetto quindi scusatemi se nell'aspetto delle applicazioni posso andare un pochettino veloce però credo che fosse più utile andare su cos'è la block chain e sugli aspetti tecnici piuttosto che su cosa si ci può fare perché una volta compreso il primo poi potete andare su internet sul secondo elemento cioè cosa si ci può fare e lì poi vi si apre un mondo però chiaramente dovete avere i prerequisiti grazie mille per aver avuto la pazienza di ascoltarmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti